La manifestazione, quando è stata proposta da Porcella, promotore della manifestazione da tantissimi anni, la volontà di riproporre anche per quest'anno la manifestazione sotto Natale, cosa che se il tempo ci assiste, almeno qualche settimana fa sarebbe andata ancora meglio, visto il clima estivo, primaverile almeno, dei giorni scorsi. Però credo che sia importante da che punto di vista. Da punto di vista in particolare della scoperta di alcuni luoghi della città che hanno un fascino e un valore dal punto di vista ambientale strategico persino per lo sviluppo futuro della città di Cagliari. La manifestazione, come vedete, vede non solo il Comune di Cagliari coinvolto, ma anche il Parco del Molentargius che, come sapete, ha diversi progetti anche per quanto riguarda il collegamento del Poetto, dei canali con piste ciclabili con la città, in modo tale che possano essere realizzati dei percorsi che possano collegare la città al Parco del Molentargius, alle saline, al Colle di Santeria, Calamosca e alla Sella del Diavolo. I progetti poi nel dettaglio verranno illustrati dall'assessore Coni, ma già oggi noi abbiamo salvato le risorse per quanto riguarda il lungomare del Poetto. Il progetto adesso andrà dopodomani, tra qualche ora, insomma, all'attenzione della regione per la valutazione per poi mandare a bando, abbiamo 15 milioni di euro sul progetto per la riqualificazione del lungomare che andrà da Marina Piccola fino allo spazio di proprietà, di competenza del Comune di Cagliari fino all'Ottagono, fino a poco oltre lo stabilimento dell'Ottagono. E poi abbiamo, ormai verrà aperto il cantiere, il lungomare dal lazzaretto di Santeria dove abbiamo ridotto la profondità del lungomare, le dimensioni, in modo da poter arrivare non con il primo lotto ma con un collegamento fino alla Via Roma dove già esiste qui nel porto una passeggiata esiste anche la passeggiata nella zona vicina tra il Nautico e l'Istituto Alberti e quindi creare un collegamento dove manca semplicemente un ponte che dovrà superare il canale cosiddetto di Mamarranca per poter collegare la Via Roma all'Azzaretto, le Saline e il Poetto. Il percorso è un percorso che ha un fascino incredibile e io spero di poter partecipare a una di queste iniziative, quella in bicicletta, quella di corsa. Insomma è un piacere poter promuovere un'iniziativa di questo tipo che tende soprattutto a sensibilizzare i cittadini cagliaritani circa alcuni luoghi della città che speriamo di poter restituire presto anche con l'aiuto e il coinvolgimento del Parco Emolentardius che ha già risorse, come sapete, disponibili per la risistemazione dei canali, delle piste ciclabili, dei percorsi. Sono presenti anche a cambiare, eppure Cagliari è bella per pedalare, per passeggiare. Il nostro impegno è quello di dare le opportunità alle persone perché pedalare in mezzo al traffico, pedalare in mezzo ai rischi, pedalare avendo sempre il timore di essere messi sotto da una macchina certamente non è un modo per invogliare la mobilità ciclopedonale. Per questo motivo, l'avete appreso dai giornali, nelle scorsi mesi o settimane c'è un importante accordo di programma che si sta chiudendo tra i vari comuni e la provincia e anche il Parco di Emolentardius per fare una rete di pista di ciclabili complessiva. Proprio per una strana coincidenza c'era la Commissione dei Trasporti in questo momento che stava discutendo su quali saranno poi gli interventi definitivi di prima fase e di seconda fase. Ci sono molte risorse a disposizione, circa 5 milioni e 8 in un primo momento e quasi la stessa entità su una seconda fase. Entro marzo devono essere fatte le gare d'appalto per fare le piste ciclabili. Naturalmente questo è con le risorse regionali. Molte piste ciclabili potranno essere anche realizzate semplicemente attraverso segnaletica che è a bassissimo costo, quindi che il Comune di Cagliari ha sicuramente l'intenzione di potenziare. Altre cose invece sono piuttosto costose. Ad esempio il Sindaco prima parlava di uno scavalco sul canale di Terramaini che se fosse solo l'unica opera da realizzare porterebbe via parecchie delle risorse disponibili per Cagliari. Cagliari di questi 5 milioni e 8 beneficerà di circa 2 milioni di euro. L'ipotesi adesso è cercare di estendere la rete e integrarla. A Cagliari esiste una pista ciclabile lungo il canale di Terramaini di 3,5 km, inaccessibile e quindi bisogna rendere più permeabile e fruibile questa. Accanto a questi interventi esistono tutta una serie di piccoli interventi anche la stessa cura della qualità delle superfici ciclabili, della segnaletica, l'integrazione del sistema di backsharing esistente a Cagliari con delle risorse disponibili che però devono essere coordinate tra tutti i comuni. Queste sono le iniziative, non solo per mobilità ciclabile ma anche quella pedonale. Vi dico già che una delle prossime giunte, forse in settimana stessa, istituiremo le ZTL in una prima fase con l'obiettivo di estenderle sia dal punto di vista temporale e le ZP, le zone pedonali. Vi dico già che quella prossima sarà quella di Piazza San Giacomo e di Via Sulis con orari ben definiti totalmente pedonalizzati e poi l'idea è quella di avere anche percorsi pedonali preferenziati, protetti nelle vie che si prestano, Pia Paoli e altre. Quasi non si doveva fare la manifestazione perché non c'erano fondi, non c'era tempo, però dall'incontro con il nuovo sindaco è nato il desiderio comunque di farla per far vedere lo stato dell'arte delle nostre, delle future piste ciclabili per far vedere che questa è una città che si può vivere anche d'inverno. Quindi prima di passare.